Pippo Santonastaso, fratello della campionessa del telequiz musicale Il Musichiere Lucia Santonastaso, venne scoperto artisticamente da Marcello Marchesi, in compagnia del fratello Mario, chitarrista accompagnatore e spalla per il fratello protagonista, nati e cresciuti in Emilia. Ma con una parlata che rivelava l'origine napoletana della famiglia, i fratelli Santonastaso si dimostrarono talentuosi nella comicità di genere demenziale, veri innovatori al pari dei colleghi Rick e Gian, Cocchi e Renato, i Guffi ed altri ancora, calcando i palcoscenici dei teatri da prima, come il derby di Milano, e di seguito quello della televisione. Pippo, primo attore tra i due, il comico, utilizzava la musica quale spunto per i loro sketch comici. Nel 1970 i fratelli Santonastaso esordirono in televisione nel programma Ti piace la mia faccia, di cui lo stesso Marchesi era uno degli autori. e nel 1971 parteciparono al programma per un gradino in più. Nel 1974 presero parte al programma Foto di Gruppo, condotto da Raffaele Pisu, nella seconda metà degli anni 70 e nel decennio successivo apparvero in molti spettacoli di prima serata, trasmessi dalle principali emittenti televisive nazionali, fra le partecipazioni, quella nell'edizione dell'1977-1978 di domenica in e su Rai 2 la presenza fissa nel cast del programma Gran Canal di Corrado. Pippo Santonastaso esordì al cinema nel 1976, partecipando per un decennio a diversi film di buon successo commerciale. Abbandonò negli anni 90 il mondo della celluloide, salvo alcune apparizioni secondarie, per dedicarsi maggiormente al piccolo schermo e dall'attività teatrale. Operette, è il padre di Andrea Santonastaso. Anche lui attore.